Le cinture esplosive utilizzate per gli attentati di Parigi del 13 novembre erano state costruite in un appartamento di Shirebeck, quartiere di Bruxelles. Nella casa sono state trovate anche le impronte di Salah Abdeslam, il principale ricercato per le stragi. L'ha reso noto la procura di Bruxelles che ha anche lanciato un allarme per il 15 gennaio. Temiamo un attentato. La polizia di Colonia ha arrestato 31 persone ma nessuna al momento è formalmente accusata per le molestie sessuali dell'ultimo dell'anno. 18 tra loro sono rifugiati, richiedenti asilo, critiche sulla politica di apertura voluta dalla Merkel. Secondo il ministro Gentiloni serve un asilo europeo. In Italia intanto tra le polemiche è slitta di una settimana il decreto legge che cancellerebbe il reato di clandestinità. Perquisizioni della Guardia di Finanza in 15 società nell'ambito dell'inchiesta sulla passata gestione di Banca Etruria. Si tratta di società che hanno ricevuto finanziamenti dall'Istituto e che sono riconducibili all'ex presidente Lorenzo Rosi e all'ex consigliere Luciano Nataloni. Entrambi sono indagati dalla procura per omessa comunicazione del conflitto di interessi. Migliora l'andamento dei conti pubblici, l'Istat registra nel terzo trimestre del 2015 un calo dello 0,5% rispetto al 2014. Cresce invece anche se è lievemente la pressione fiscale salendo al 41,4%. Il rapporto deficit-pill è sotto i parametri dettati dall'Unione Europea ma sopra le previsioni del DEF. Per fare i conti con Bruxelles è ancora troppo presto. Il PD trascina il caso quarto in piazza. Dopo la procura di Napoli anche il commissario anticorruzione Cantone indaga su presunte corruzioni e infiltrazioni mafiose nel comune campano. Presidio DEM e De Verdi davanti al municipio per chiedere le dimissioni del sindaco. Ma Rosa Capuozzo non c'è e va davanti, dice, mentre sulle minacce del consigliere fa retromarcia malumori tra i grillini. Da lunedì niente messa scolastica e bambini le cui famiglie non pagano le rette. Fa discutere l'ordinanza del sindaco del comune alle porte di Milano. Linea dura contro i furbeti, dice il primo cittadino, ma scoppiano le proteste delle famiglie in difficoltà. Presidi e maestri chiedono di trovare soluzioni alternative per chi non ce la fa. Il servizio tra poco in Tg Cronache. Buongiorno e benvenuti al telegiornale della Sette. Dunque nei giorni in cui in Francia si commemorano le vittime degli attentati di un anno fa all'ipercascere ebraico e a Charlie Hebdo emergono con sempre più forza le prove che i successivi attacchi avvenuti il 13 novembre sempre in Francia, sempre a Parigi sono stati pensati ed organizzati in Belgio, a Bruxelles, dove questa mattina il procuratore federale ha detto di temere un altro attentato il prossimo 15 gennaio, il giorno in cui ricorre l'anniversario dell'uccisione da parte della polizia di due terroristi che stavano organizzando gli attacchi di Verviers. Il filo rosso della mattanza jihadista francese porta ancora una volta nel cuore del Belgio. Siamo Schaerbeck, centomila anima alla periferia nord-orientale di Bruxelles, in uno dei quartieri più difficili della capitale che di fatto fanno comune a sé come Anderlecht-Mohlenbeck, dove la disoccupazione giovanile è una piega sociale che riguarda quasi un ragazzo su due e dove il 20% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. È qui, in uno di questi appartamenti, che la polizia avrebbe ritrovato tracce di esplosivo e abbigliamenti che sarebbero serviti a fabbricare in modo artigianale le cinture esplosive per gli attentati di Parigi del 13 novembre. Non solo, durante la perquisizione sarebbe stata trovata anche un'impronta digitale di Salah Abdeslam, il principale sospettato ancora in fuga degli attacchi. Dunque lui potrebbe essersi rifugiato proprio in questo appartamento, affittato sotto falso nome da un sospetto attualmente in custodia, prima di scomparire nel nulla o forse di partire per la Siria, mentre le polizie di mezza Europa gli davano la caccia. Gli agenti però restano cauti e non è ancora chiaro se l'impronta digitale sia stata lasciata prima o dopo i massacri del 13 novembre. Certo è che proprio in questo quartiere, che aveva dichiarato di averlo portato subito dopo gli attacchi, ha lì Ulkadi, uno dei due uomini che sono stati arruolati in quelle ore per pianificare la fuga di Salah. Dunque l'allerta in questa zona del paese resta altissima, anche perché il procuratore federale Frederic van Leuven in un'intervista alle SUA sostiene di temere un attentato il Belgio il prossimo 15 gennaio. Data simbolica, perché è un anno esatto dall'uccisione dei due terroristi che preparavano attentati a Verviers. Così come era una data simbolica quella di ieri, in cui Parigi è ripiombata nel terrore e nell'anniversario dell'attentato a Charlie Hebdo per l'attacco a un commissariato di un presunto terrorista islamico ucciso poi dalle forze di polizia. La cui identità resta, tra l'altro, ancora un mistero. Potrebbe non trattarsi di Salah Ali, originario del Marocco, ma di tale Tarek, tunisino di 30 anni. L'unica cosa certa è che dopo un arresto per furto nel 2013 si era visto notificare l'ordine di espulsione dalla Francia. In Germania invece arrivano i primi arresti a Colonia per i fatti avvenuti a Capodanno, ai danni di numerose donne, anche se la procura e gli inquirenti ci tengono a precisare che al momento non sono scritti reati sessuali contro queste persone, ma solamente di tipo generico, furto e lesioni. E si tratta però di 31 immigrati, tra cui almeno 18-20 richiedenti asilo. Questa è una notizia destinata a creare dei problemi alla cancelliera tedesca Angela Merkel e alla sua politica di accoglienza fatta fino a questo momento. A una settimana dalla notte delle violenze e della vergogna arrivano le prime incriminazioni. Sono 31 persone individuate grazie ai video che erano stati realizzati in quelle ore, ma che sono accusate per ora solo per furti e lesioni corporali. Altre tre sono ricercate per molestie sessuali, ma non sono ancora state identificate. Tra gli arrestati, 9 sono di origine algerina, 8 marocchini, 5 iraniani e 4 siriani, 2 tedeschi, 1 iracheno, 1 serbo e 1 cittadino degli Stati Uniti. E tra queste 31, data destinata ad infiammare di nuovo le polemiche, 18 sono richiedenti asilo. Finiscono le speculazioni, quindi la dichiarazione ufficiale viene dal Ministero dell'Interno tedesco. Il problema immigrati assume una nuova dimensione. Anche perché ieri sono emerse denunce di violenza anche in altre città della Germania, come ad Hamburgo, dove 70 donne hanno dichiarato di essere state malmenate, rapinate o di aver subito molestie per le strade nella notte dell'ultimo dell'anno. Episodi di dimensioni minori sono stati segnalati anche fuori dalla Germania, come in Svizzera e ad Helsinki. E il premier slovacco Robert Fico, da sempre avversario della politica delle braccia aperte di Angela Merkel, ha detto che il suo paese non vuole più accettare profughi musulmani. Ieri la Merkel non era stata certo tenera. La sensazione di paura delle donne che si sono trovate in balia di quegli uomini senza ricevere soccorso è una cosa che mi tocca sul piano personale, ha detto la cancelliera, che ha promesso che verranno riviste le procedure di espulsione per gli autori di questi reati. Atti ripugnanti e criminali li ha definiti la Merkel. La pubblicazione del rapporto riservato della polizia sui fatti di quella notte, che sta su tutti i giornali tedeschi, ha scioccato l'opinione pubblica. In sostanza l'anonimo funzionario di polizia che lo ha steso scrive che quella notte lo Stato tedesco ha perso completamente il controllo della situazione sulla piazza della stazione di Colonia, occupata da una folla aggressiva, che non sembrava minimamente preoccuparsi degli inviti a disperdersi fatti dai poliziotti, che anzi sono stati bersagliati da petardi e pezzi di vetro, intanto che a un certo punto si è temuto che ci scappasse il morto. E quindi non solo non è stato possibile aiutare tutte le donne e le ragazze che arrivavano sconvolte, in lacrime, denunciando le aggressioni, ma addirittura non c'era abbastanza personale per registrare tutte le denunce. E qualcuno dovrà spiegare perché la prima dichiarazione della polizia la mattina di Capodanno aveva definito la situazione della notte precedente rilassata. Ecco, lo Stato islamico invece ha rivendicato l'attentato via internet, è venuto ieri a un posto di blocco nel pozzo petrolifero di Ras Lanuf, siamo in Libia dove un'autobomba è esplosa provocando sette morti e numerosi feriti. Sempre ieri ricordiamo nella località di Slitan un camion bomba, attentato anche questo rivendicato dall'Isis, era esploso contro una caserma della polizia provocando 70 morti. in attesa della formazione di un governo di unità nazionale, continua dunque l'offensiva dei jihadisti in Libia che sostiene un quotidiano del Cairo, avrebbero sconfinato sequestrando 21 cittadini egiziani in un villaggio dell'Alto Egitto. Ora passiamo alla politica italiana perché suscita delle forti reazioni la notizia di un decreto del governo che dovrebbe arrivare il prossimo 15 gennaio dove è prevista l'abolizione del reato di clandestinità sulla quale interviene anche il procuratore nazionale antimafia secondo il quale la depenalizzazione aiuterebbe più facilmente a colpire i trafficanti. Per la Lega invece questo significherebbe una invasione. Un condominio litigioso è ciò a cui rischia di assomigliare l'Unione Europea di fronte all'emergenza migranti secondo il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Ciascuno litiga con i vicini salvo per prendersela tutti insieme con chi sorveglia la porta, in questo caso la Grecia, dice intervistato dalla stampa. In Grecia nel 2015 sono arrivati 850 mila profughi. Pensare che in quanto primo paese d'arrivo da solo potesse assicurare a tutti un asilo fa pugni con la realtà, l'asilo deve essere europeo rendendo permanente il meccanismo della ricollocazione e per chi non ha titolo per essere accolto anche i rimpatri devono essere un compito europeo precisa. Per Gentiloni sull'altare del trattato di Dublino che attribuisce al paese di arrivo l'onere dell'accoglienza si sta rischiando di sacrificare il trattato di Schengen che sancisce la libera circolazione delle persone nell'Unione Europea e che alcuni paesi hanno sospeso. Devono essere misure straordinarie e temporanee, avverte il Ministro degli Esteri. Un'assunzione comune di responsabilità deve arrivare entro primavera prima che riprendano flussi migratori molto consistenti. Flussi che l'Italia affronterà con nuovi strumenti. Il Parlamento ha già approvato la depenalizzazione dell'immigrazione clandestina con una legge delega e il Governo si appresta a varare il decreto attuativo. Una misura apprezzata dal Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Se i migranti non sono imputati ma vittime, spiega, sarà più facile ottenere da loro informazioni per sgominare le organizzazioni dei trafficanti. Il decreto prevederebbe per gli immigrati clandestini solo una sanzione amministrativa applicata dal prefetto. Un testo su cui l'NCD e il Ministro dell'Interno Angelino Alfano sono perplessi perché rischierebbe di ingolfare le prefetture di lavoro e di lanciare un messaggio sbagliato su un tema su cui l'allarme sociale è alto. Contro l'abolizione del reato di immigrazione clandestina la Lega annuncia una campagna. È una follia, faremo le barricate in Parlamento e poi nelle piazze con un referendum contro questa vergogna assicura il leader del carroccio Matteo Salvini. Il Governatore della Lombardia Roberto Maroni lancia l'allarme, prepariamoci all'invasione. Replica sempre dall'opposizione il capogruppo alla Camera di Sinistra Italiana Arturo Scotto. La Lega smetta di strepitare, il reato di immigrazione clandestina è inefficace e sbagliato. Alfano ascolti le parole del procuratore antimafia Roberti. Allora, è diventata una polemica nazionale la vicenda politico-giudiziaria di quarto in Campania dove nel milino degli inquirenti c'è l'intera amministrazione comunale. Sul tema del voto inquinato dalla Camorra infuriano battute al vetriolo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. La vicenda del comune Grillino di Quarto sotto accusa nell'inchiesta della direzione di settuale antimafia di Napoli per ricatti, estorsioni e presunte ingerenze della Camorra nell'esecutivo cittadino, voto di scambio politico-mafioso, continua a scuotere la politica nazionale. Mentre stamattina il PD e i Verdi hanno organizzato un presidio davanti al palazzo comunale di Quarto chiedendo le dimissioni del sindaco Rosa Capuozzo dopo che Grillo ieri sul suo blog aveva difeso il primo cittadino, la Camorra non condiziona il Movimento 5 Stelle di Quarto e il sindaco non ha mai ceduto alle richieste dell'ex consigliere. Parla di De Robbio che, sottolinea Grillo, è stato espulso il 14 dicembre prima che ricevesse l'avviso di garanzia e precisa che è falso che i voti dell'ex consigliere furono decisivi per la vittoria. Il PD ci va giù duro ricordando che l'imprenditore delle pompe funebri Cesarano che nelle intercettazioni dà indicazioni di votare il sindaco 5 Stelle è lo stesso che organizzò i funerali di Casa Monica. Orfini accusa hanno la Camorra in casa. Il sindaco Rosa Capuozzo che nelle dichiarazioni rese al PM Voodoocock e all'aggiunto Borrelli aveva parlato di una fotografia su abusi e dirizi della sua abitazione usata dal consigliere indagato De Robbio come ricatto nei suoi confronti ai microfoni del Tgla 7 dà un'altra versione comunque già corretta con i magistrati. Non ho ricevuto nessuna minaccia, anzi il consigliere De Robbio non mi ha minacciato sono stata chiarissima su questa cosa. C'è stata ovviamente la visione di questa fotografia ma non c'è stata nessuna minaccia. Le ha mostrato questa fotografia così, solo mostrandole? Non aveva il senso di una minaccia? Assolutamente no. La senatrice Rosaria Capacchione oggi davanti al Comune di Quarto ha chiesto alle dimissioni del sindaco dopo aver presentato un'interrogazione parlamentare su un episodio gravissimo che riguarda una ditta con interdittiva antimafia. La legge dice che nel momento in cui tu vieni a conoscenza di un'interdizione antimafia devi sospendere il contratto. In casi straordinari puoi chiedere il commissariamento del contratto per ragioni di pubblica utilità ma non sei tu a decidere se deve essere. Nel frattempo devi sospendere nulla. Al vaio del presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone quella delibera di giunta nello scorso 22 dicembre per l'appalto per la gestione del servizio idrico fognario. C'è esigenza di fare chiarezza, dice. Il sindaco si dice pronta ad essere ascoltata davanti alla commissione antimafia. C'è una svolta nel caso delle banche salvate con un decreto del governo che però ha zerato i conti degli investitori coinvolti. La Guardia di Finanza ha infatti eseguito questa mattina una serie di perquisizioni in 15 società che avevano ricevuto dalla banca Etruria dei fili dei finanziamenti, forse dei prestiti. Vediamo. Il blitz della procura di Arezzo ha colto di sorpresa, ma forse neanche tanto, 14 società che hanno avuto finanziamenti da banca Etruria. Anche nella sede centrale dell'istituto le fiamme gialle stanno prendendo carte relative a operazioni aziendali che hanno contribuito alla crisi finanziaria della banca. Documenti che vanno a rimpolpare il fascicolo relativo all'omessa comunicazione del conflitto di interessi. L'accusa riguarda Lorenzo Rosi, ex presidente, e Luciano Nataloni, ex componente del Consiglio d'amministrazione. La procura li ha iscritti nel registro degli indagati perché all'epoca non avrebbero comunicato al CDA che autorizzò la concessione dei fidi che avevano un ruolo all'interno delle aziende che ricevevano denaro. L'ipotesi iniziale è di Banca Italia, ora la magistratura a retina cerca riscontri. Che ruolo hanno avuto i vertici di Banca Etruria in quelle operazioni? E che ruolo ricoprivano quei personaggi di primissimo piano all'interno delle società beneficiate? Le perquisizioni dei 50 finanzieri travalicano la provincia di Arezzo. L'attività investigativa, comunicano gli inquirenti, è indirizzata alla ricerca dei reali rapporti intercorrenti tra manager di Banca Etruria e società con sede in Toscana, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna, operanti nei più diversi settori, dalla costruzione di edifici alla compravendita di beni. Alcune di queste società fabbricano e gestiscono outlet. Una, la Castelnuovese, sede a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, è tuttora sotto perquisizione. Legale rappresentante era Lorenzo Rosi, ex presidente di Banca Etruria, nonché titolare della Egnazia Shopping Mall, che ha come socio di riferimento la Nikila Invest, a sua volta titolare del 40% della parte SRL. Amministratore unico Laura Bovoli, madre di Matteo Renzi, socio, il padre del presidente del Consiglio, Tiziano. I documenti acquisiti in queste ore verranno comparati con quelli che gli ispettori di Palazzo Cocca hanno trasmesso in procura mesi fa. Le vacanze di Natale non hanno fermato le proteste dei risparmiatori delle quattro banche salvate dal decreto del 22 novembre nelle indagini dei distretti giudiziari. Il Tribunale di Arezzo ha ricevuto la relazione del liquidatore e curatore fallimentare di Banca Etruria e dopo averla esaminata valuterà se dichiarare lo stato di insolvenza dell'istituto, che ha in bilancio un buco di 3 miliardi. In quel caso la Procura comincerà a indagare per bancarotta fraudolenta aprendo un quinto filone di indagine. Il più avanzato è quello sull'ostacolo alla vigilanza. Hanno già ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini l'ex presidente Fornasari, l'ex direttore generale Bronchi e l'ex dirigente di pianificazione e rischio Canestri. Dopo la giornata lera di ieri le borse provano il rimbalzo, in particolare a recuperare ci sono i listini cinesi che trainano anche tutte le altre piazze europee, ma sul fronte più strettamente italiano sono le notizie che riguardano il rapporto deficit-PIL ad interessarci perché è abbastanza confortante. Che il rapporto deficit-PIL sia sotto la fatidica soglia del 3% è sempre una buona notizia, almeno per quanto riguarda il rispetto delle rigide norme europee, anche quando sostanzialmente attesa. E che l'Italia sia rimasta sotto quella sticella anche nel terzo trimestre 2015. Lo certifica oggi l'Istat. Nel periodo luglio-settembre, infatti, quel parametro si è collocato al 2,4%, migliorando dello 0,5% il dato del terzo trimestre 2014. Nella media dei primi nove mesi dell'anno, invece, siamo appena sotto il parametro più importante di Maastricht, ovvero al 2,9%. Anche qui il miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2014 è sensibile, lo 0,4%. Vero, siamo sopra il 2,6% previsto dal Governo, ma è altrettanto vero che manca all'appello l'ultima parte dell'anno, notoriamente la più generosa nei confronti delle casse dello Stato sul fronte delle entrate tributarie. Eventuali sorprese negative, semmai potrebbero essere prodotte da una crescita del denominatore del rapporto, appunto il PIL, inferiore rispetto allo 0,9% previsto dall'esecutivo. Staremo a vedere, anche se le preoccupazioni più fondate si concentrano più che altro sul 2016, sugli effetti di una manovra finanziata in deficit, sfruttando clausole di flessibilità per le quali deve ancora arrivare l'ok di Bruxelles. Sapremo in primavera, ma le parole pronunciate ieri dal presidente dell'Eurogruppo disse il Blum e rivolte espressamente all'Italia non bisogna esagerare con le richieste di flessibilità, non inducono propriamente ad un cieco ottimismo. Tornando all'Istat, significativo anche il dato sulla pressione fiscale, che resta praticamente invariata da un anno all'altro. Anche in questo caso non si può dire si tratti di una sorpresa, visto che il bonus da 80 euro in busta paga è calcolato come una prestazione sociale e non come una diminuzione delle tasse. Un calo reale potrà semmai registrarsi a partire dal 2016, quando si sentiranno gli effetti dell'abolizione della tassazione sulla prima casa, che magari indurranno gli italiani a consumare di più, migliorando numeri che già cominciano ad essere incoraggianti, visto che la spesa delle famiglie per consumi finali nel terzo trimestre 2015 è aumentata sia su base trimestrale che rispetto allo stesso periodo del 2014, grazie anche al miglioramento del potere di acquisto, cresciuto rispettivamente dell'1,4% e dell'1,3%. aumentano i redditi, scende la disoccupazione, le riforme strutturali funzionano, l'Italia usa bene la flessibilità. Questo in un tweet il commento del ministro Padoan a questi dati e ai richiami di Disselblum. Eccoci a un'ultima ora perché un uomo si è rinchiuso in un edificio di molti piani a Liverpool in Inghilterra, dove numerose strade sono state chiuse. L'uomo dice di avere con sé una bomba pronta ad esplodere. Vi daremo ulteriori notizie, se ce ne saranno. Intanto andiamo avanti con gli Stati Uniti perché continua l'offensiva di Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti, per portare avanti la sua riforma contro le armi così tanto usate e facilmente comprate dagli cittadini americani. La violenza generata dalle armi negli Stati Uniti è una crisi nazionale che ha bisogno di una risposta nazionale. Tutti abbiamo una responsabilità e un ruolo da giocare. Nella lettera aperta pubblicata dal New York Times, Barack Obama ribadisce alcuni dei concetti espressi tre giorni fa alla Casa Bianca davanti ai parenti delle vittime di stragi dovute anche alla facilità di acquisto e detenzione di armi da fuoco. A 11 mesi dalla scadenza del mandato, il presidente degli Stati Uniti appare ogni giorno più determinato a lasciare al paese una legge sul controllo delle armi. Tra le misure annunciate, maggiori controlli da parte dei venditori su chi compra armi, dati su venditori acquirenti passate subito all'FBI, adozioni di tecnologie che impediscano ai bambini di far fuoco maneggiando un'arma. Alla luce dei dati, nel solo 2015 sono stati 30.000 gli americani uccisi in sparatorio o incidenti nel maneggiare pistole e fucili, Obama si spinge oltre. L'industria delle armi blocca qualsiasi elementare misura di sicurezza, dice se un bimbo non può aprire un flacone di aspirine, dovrebbe anche non essere in grado di premere il grilletto di una pistola. Proprio nell'anno appena terminato però, l'industria in questione ha messo a segno il record di vendite, 23.100.000, il numero più alto dal 1998, quando erano stati introdotti controlli federali sugli acquisti. Non appoggerò alcun candidato alle presidenziali che non sostenga una riforma di buonsenso sulle armi da fuoco, avverte Obama. Partecipando a un dibattito davanti alle telecamere della CNN, ieri sera, ha raccontato di non aver mai posseduto un'arma, ma di aver sparato al poligono di Camp David. Poi ha spiegato di rispettare le persone che acquistino un'arma per proteggersi o cacciare, ma ha definito coerente, in qualità di capo del paese, fare tutto il possibile per evitare che i fucili o pistole cadano in cattive mani. Tra gli ospiti del programma c'era anche la vedova del soldato Chris Kyle, tiratore scelto dei Navy SEAL, che ha ispirato il film American Sniper, freddato mentre si esercitava al poligono da un ex Marine, forse affetto da disturbi da stress post-traumatico dopo missioni di guerra. Assente invece la potente lobby americana delle armi, la National Rifle Association, che ha liquidato il dibattito definendolo uno spettacolo di pubbliche relazioni orchestrato dalla Casa Bianca. Sebbene dagli ultimi sondaggi gli americani sembrino favorevoli alla stretta sulle armi di Obama, la strada verso il sì del congresso appare ancora tutta in salita. E per il calcio siamo invece arrivati alla vigilia della giornata di Serie A che segna il titolo di campione d'inverno. La forisma latino Morza Tua Vitamea si adatta bene al vissuto di un allenatore serbo, Mijajlovic, di uno francese, Garzia. Il loro presente parla di un equilibrio molto precario e di una sfida crudele che domani sera mette di fronte Roma e Milan. Per entrambi la sconfitta potrebbe essere fatale, accelerando drasticamente quel cambiamento che sembra già scritto per la prossima estate. Garzia e Mijajlovic sono sempre più soli. I datori di lavoro Pallotta e Berlusconi sono insoddisfatti del rendimento delle loro squadre, con la zona Champions che per la Roma al momento è distante 5 punti e per il Milan addirittura è improponibile. Le ambizioni tecniche legate alle esigenze economiche, perché raggiungere l'Europa vera sarebbe fondamentale per progettare il futuro. Le preoccupazioni dei club vanno verso un nuovo domani, con la speranza di non cambiare adesso per vari motivi. Garzia ha un contratto molto pesante fino al 2018 e ora nessun traghettatore accetterebbe la panchina romanista senza garanzia per il futuro. Il grande obiettivo Antonio Conte potrebbe essere disponibile solo dopo l'Europeo di giugno con la nazionale e questo è il problema. Curiosamente il CT è pure nei pensieri del Milan, che lo voleva anche nell'estate del 2014. E l'altro nome caldo per entrambi i club è quello di Luciano Spalletti, che si è liberato dallo Zenit e vuole rientrare alla grande nel campionato italiano. La patata bollente però per Palotta e Berlusconi è adesso, con una stagione che rischia di risolversi nel nulla. Ecco perché domani i due tecnici si trovano sulla torre dalla quale possono precipitare senza paracadute. Garzia si aggrappa ai senatori De Rossi, Naingolan e Piani ci assenti contro il Chievo. Una mano potrebbe dargli anche Totti, disponibile, visto che a Dzeko non è stata ridotta la squalifica. Il soccorso di Mijajlovic potrebbe arrivare il fatto che quattro giorni dopo ci sarà la Coppa Italia con il Carpi, che potrebbe dare l'accesso alla semifinale. Dietro l'angolo però c'è la figura ingombrante di Marcello Lippi. Ma nel sabato della Serie A c'è anche l'impegno della Fiorentina, in piena corsa per il titolo di campione d'inverno. Contro la Lazio la squadra di Susa vuole confermare la sua maturità ad alto livello, con il miglior attacco della Serie A con 36 gol. Il Licic è il simbolo del rinascimento viola. E con il calcio si conclude il nostro telegiornale. Vi invito però a rimanere con noi perché c'è anche TG Cronache con Raffaella di Rosa. Grazie e a domani. Grazie a tutti.